Tutti parlano di dieta chetogenica, ma quando è nata la dieta chetogenica? Oggi facciamo un pochino di storia. Partiamo col dire che già dal 500 a.C. il digiuno veniva utilizzato per trattare alcuni problemi di salute. Ecco allora che per mimare il metabolismo del digiuno, i moderni dottori di quell'epoca hanno introdotto un regime alimentare, che si chiamava appunto dieta chetogenica, per combattere l'epilessia. E questa avveniva nel lontano 1920. Negli ultimi 15 anni la dieta chetogenica è esplosa, per ovvi motivi. Intorno alla cheto c'è molto interesse scientifico. Ci tengo a dire che non deve essere vista come una medicina per un semplice motivo. Riproduce in noi uno stato metabolico naturale. La chetosi viene prodotta naturalmente dal nostro corpo, seguendo appunto la dieta chetogenica, ovvero restringendo i carboidrati oppure facendo digiuno. I nostri antenati, ai tempi quando erano cacciatori che non mangiavano per diversi giorni, entravano naturalmente in chetosi ed erano capaci così di non mangiare per diversi giorni e allo stesso tempo cacciare le prede che poi servivano per sfamare il villaggio. Questa è la semplice ma interessante storia della dieta chetogenica. Vì, come va a cercare di provare il video del video del video del video del video del video? Grazie.